Si può fare già un primissimo bilancio, in un certo senso lei lo ha già fatto, probabilmente siamo andati anche oltre le più rose aspettative. Siamo andati oltre le più rose aspettative perché ricordiamoci che lo scorso anno a causa della pandemia avevamo dei posti limitati qui al Teatro D'Annunzio. Quest'anno siamo riusciti a garantire il massimo della capienza e siamo riusciti davvero a fare sold out praticamente a quasi tutte le date. Ringraziamo anche il porto turistico Marina di Pescara che ha ospitato diverse date sia del Pescara Jets che del Funambolica e anche in quelle occasioni siamo riusciti sia ad avere una massima capienza sia ad avere un ottimo e soddisfacente risultato di pubblico. Per chiudere siete già a lavoro per l'autunno, per il fine anno? Siamo a lavoro per il fine anno godendoci comunque la stagione in corso e i bilanci noi di solito li facciamo a settembre per poi programmare e provare a programmare una stagione invernale che può funzionare. Sì, siamo a lavoro, stiamo cercando comunque di dare seguito a quanto di buono fatto quest'estate sperando insomma che questo virus possa definitivamente abbandonarci.